La mia passione per la cucina e la pizza iniziano da bambino perché la mia famiglia aveva dei negozi giocattoli dove sono cresciuto e ho iniziato a giocare con un giocattolo che si chiamava il dolce forno e da lì è partito tutto e sono venuto a conoscenza della scrocchiarella a mezzo della nostra scuola di formazione che è Accademia Pizzaioli. Cosa grandiosa di scrocchiarella è la facilità di esecuzione nella standardizzazione del prodotto che è la cosa più importante. Scrocchiarella è il prodotto che ho sempre voluto da dove io mi sono ispirato per fare tutti altri tipi di lavorazione infatti mi sono sbizzarrito a creare prodotti cotti al vapore prodotti prima fritti e poi cotti nuovamente in forno. Quando i miei clienti assaggiano la mia scrocchiarella fanno wow me la dipingono come una nuvola del gusto internamente scioglievole con una croccantezza esterna pazzesca. Grazie a tutti.